Per Budo International.it siamo al corso istruttori della WFC con Maurizio Buriani che si occupa della preparazione atletica. In cosa consiste la tua formazione? L'intervento consiste nelle diverse sessioni e nei diversi seminari che verranno fatti qua con la WFC, io in maniera particolare tratterò la preparazione atletica in maniera molto generale, ovviamente perché avremo solo una sessione di 4 ore, in maniera specifica negli sport di combattimento. Poi successivamente, quindi per chi l'anno prossimo sarà già istruttore e in generale chi è già istruttore, può invece frequentare una sorta di seminario che verrà disposto in 4 sotto seminari dove andremo ad affrontare in maniera particolare le diverse caratteristiche necessarie fisiche per gli sport di combattimento. Per gli atleti che lavorano negli sport di combattimento e andremo ad affrontare in maniera specifica la resistenza, la forza, la rapidità e poi un'altra sessione di lavoro sarà invece incentrata sui giovani, quindi sulle varie caratteristiche che devono avere, sulle metodiche che bisogna utilizzare ovviamente per far migliorare i giovani e quindi un occhio particolare sulle fasi e sull'età di accrescimento, cosa che ovviamente è molto importante se vogliamo dare uno sfogo all'esporto di combattimento, uno sviluppo importante all'esporto di combattimento. Perfetto, sui prossimi interventi andremo ad approfondire le varie tematiche. Grazie Maurizio.